Oggi, 13 maggio 2015, nasce Villa Florentina ed Eva, un'occupazione abitativa dedicata alle vittime del lavoro stagionale gravemente sfruttato. L'occupazione comprende una famiglia con due minori e un neomaggiorenne, due disoccupati, una precaria e una lavoratrice stagionale sfruttata nel lavoro turistico. Questo spazio viene sottratto oggi alla speculazione dei privati che lucrano sugli spazi abbandonati.